Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. In FIPILI troviamo code tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione opposta rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Ricordiamo che sulla FIPILI l'entrata Empoli Est in direzione Firenze resterà chiusa per lavori nella tratta Empoli Est-Montelupo Fiorentino fino al 22 novembre. In A1 coda per lavori in viaggio verso Roma tra il BV1 variante e Firenze Nord. Sul d'accordo siano a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiate in entrambe le direzioni per lavori tra Poggi Bonsi Nord e Tavarnelle e tra San Casciano e l'allaccio con la A1 Firenze in Pluneta. Da mercoledì 16 novembre il cantiere della tramvia a Firenze si sposterà sul controviare tra via Luca d'Aosta e via Bonifacio Lupi, dove saranno istituiti divieti di sosta e transito anche nella pista ciclabile. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Grazie.